Aveva da poco ottenuto il patentino di guida per la moto, la tragedia sulla strada di casa, nella serata di mercoledì intorno alle 23, a perdere alla vita un ragazzo di soli 15 anni di Varenna. Mattia Fagioli stava viaggiando in sella la sua Honda Motor da lungo la SP72 da Colico verso Mandello quando all'altezza della località Fiumelatte, nei pressi della piazza centrale, è avvenuto lo schianto. Avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della moto da crosse e finendo contro una ringhiera in ferro che separa la strada dal lago. La dinamica dell'incidente al vaglio della polizia stradale che non esclude anche il coinvolgimento di altri mezzi. Qualcuno potrebbe avergli tagliato la strada, l'unica certezza però al momento è che quando le pattuglie sono arrivate sul posto il giovane era riverso a terra, esanime, solo. Poco distante la motocicletta, l'impatto è stato devastante, sbalzato a diversi metri di distanza, il corpo dell'adolescente è finito sulla spiaggetta sottostante la ringhiera sulla riva del lago. Inutile il disperato tentativo dei medici di strapparlo alla morte, i soccorritori hanno praticato a lungo le manovre rianimatorie, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Mattia Fagioli viveva in paese, nella frazione di Pino, con il fratello più piccolo, Simone, 12 anni, e il padre Sisto. La mamma, Alessia, era scomparsa nel mese di novembre dopo una lunga malattia. Una tragedia che lascia senza parole, spiega il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni. Siamo attoniti, ieri sera ho visto Mattia in piazza, insieme agli amici, pochi minuti prima dello schianto. Una famiglia molto conosciuta in paese, il padre Sisto, insieme al nonno Giancarlo, sono i titolari di una dita edile che da sempre lavora con il comune. Due lutti così strazianti in pochi mesi non possono che spezzare i cuori di tutti. Mattia Fagioli era uno studente dell'ESPE, la scuola Edire di Lecco, giocava a calcio nella Colle Coderviese. Gli ultimi mesi dopo la perdita della mamma per lui erano stati difficilissimi, ma non aveva mai perso il sorriso fino al tragico schianto di questa notte. L'addio domani alle 14 nella chiesa di San Giorgio a Varenna.